Dopo aver preso appuntamento telefonico usciva dalla propria abitazione, saliva al volo nelle auto dei clienti per un rapido giro, il più delle volte alcune centinaia di metri, insomma quanto bastava per completare lo scambio stupefacente denaro, pensando così di riuscire a farla franca. Ma gli strani movimenti, in realtà una tecnica tanto veloce quanto collaudata, erano finiti da tempo sotto osservazione degli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo, che ieri, dopo l'ennesimo scambio avvenuto con le medesime modalità, hanno arrestato lo spacciatore in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina nella zona di Viale Santa Margherita. L'uomo, 45enne, albanese, clandestino e con svariati precedenti per furto e spaccio di stupefacenti, aveva con sé altre 5 dosi di droga, pronte per essere consegnate ad altri acquirenti, mentre nell'abitazione i poliziotti hanno trovato denaro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.